Grazie a tutti Su questioni insomma tipo attinenti alla fede, alla morale, alla chiesa, a quello che desiderate Ho visto già alcune domande poste quindi cominciamo subito Francesca Estrella mentre ancora andava in onda il canto Scriveva buonasera perché Gesù non ci è fatto riconoscere dopo la risurrezione Nel Vangelo di questa settimana, grazie Tutte le apparizioni di Gesù risorto hanno questo minimo comune denominatore Che chi lo vede non lo riconosce Il motivo secondo il pensiero degli scrittori ecclesiastici è molto semplice Lo sintetizza San Paolo nelle sue lettere Se anche abbiamo conosciuto Gesù Cristo secondo la carne Ora non lo conosciamo più così Gesù risorto è entrato in una nuova dimensione Nuova dimensione che è perfettamente accessibile soltanto per mezzo della fede Cioè aver conosciuto la santissima umanità terrena di Gesù non è sufficiente per accedere a Gesù risorto Perché in Gesù risorto si manifesta la gloria e la potenza della sua divinità Questo è di grande consolazione anche per noi perché non l'abbiamo visto Ma lo possiamo tranquillamente incontrare tanto quanto è grande la nostra fede Vedevo poi un'altra figliola Un pochino più sclaudio a Zazzari che diceva Dalla quinta ora della passione a prima ora del Getsemani Una frase mi ha sempre colpito Gesù dice l'amore è la mia passione perenne mentre quella degli uomini è nel tempo Come interpreta la seconda affermazione Questo lo spiega Gesù già negli scritti di Luisa Cioè la passione fisica diciamo così quella che a noi tanto colpisce E anche quella spirituale del Getsemani Quindi le 24 ore della passione di fatto descrivono la passione storico-temporale che Gesù ha vissuto Diciamo che è cominciata convenzionalmente alle 21 del giovedì santo Ed è terminata alle 15 del venerdì santo Ma come si vede nella prima ora del Getsemani E come si capisce benissimo da tanti passaggi anche degli scritti di Luisa E anche di altri autori o autrici spirituali e mistiche Già basta la rivelazione del Sacro Cuore Insomma Santa Margherita Maria la Cocca Dove Gesù disse La croce fu piantata nel Sacro Cuore Al momento del mio concepimento terreno Cioè da quel momento io ho cominciato a soffrire per la redenzione Quindi la passione di Gesù non è stata circoscritta soltanto a quelle 12 ore Nemmeno insomma che ha sofferto anche se intensissimamente Certamente durante la sua passione temporale Ma la carità infinita con cui ci ha amato da sempre Con cui desiderava dare gloria al Padre riparare i nostri peccati Ininterrottamente E anche la divina volontà che gli rappresentava continuamente La sua natura divina Tutti quanti i peccati Tutte quante le pene dovute per il peccato E tante altre cose Che noi non possiamo perfettamente affidare in quanto creature Hanno fatto della vita di Gesù Della vita terrena di Gesù Una immolazione ininterrotta Questo è il senso corretto in cui intendere questa affermazione Ave Maria è lecito inginocchiarsi davanti alle religie dei santi Scrive Angelica Certamente sì Inginocchiarsi è un segno Certamente Più propriamente Di adorazione Però insomma Se si ricordano per esempio Le testimonianze San Giovanni Paolo II Era uno che dovunque andava Si faceva mettere in ginocchio Dove pregava in ginocchio Anche davanti alle religie dei santi E' chiaro che davanti a un santo Quel gesto non esprime L'adorazione di Latria Ma esprime la venerazione di Io evidentemente va adorato Certo io venero un santo come più grande di me Appunto perché si è distinto Per aver praticato le virtù cristiane In grado eroico Va bene Qui rimandiamo tutti quanti i ringraziamenti Al Signore Allora come sacerdote Io devo anzitutto dire Quello che pensa la Chiesa Del cammino neocatecumenale Il cammino neocatecumenale Ha avuto un riconoscimento giuridico Dei suoi statuti E alcune autorizzazioni Diciamo così Temporanee A quanto ne so Perché assolutamente Non ho seguito bene La faccenda Per quanto riguarda alcune Pratiche liturgiche Che sono proprie di questo Movimento E' un movimento abbastanza Come dire Chiacchierato Per certi aspetti Perché presenta alcune Prassi Diciamo così Chiamiamole così Pastorali Oppure linee Non da tutti condivise Che hanno in generale Insomma parecchie Lamentele anche da parte Di più Di qualche membro Aspetto alle autorità ecclesiastiche Certamente verificare Eventuali segnalazioni Problematiche Denunce A volte abbastanza Forti Che provengono anche da Da persone che hanno fatto parte Di questo Di questo movimento Io prendo atto Insomma Che se alcune Cose Insomma Che vengono Segnalate Sono così Come Vengono segnalate Certamente L'autorità ecclesiastica Dovrà fare ulteriori indagini Evidentemente A fine sempre Correttivo Insomma Non per distruggere Ma per edificare Proporre opportuni E Doverosi Insomma In certi casi Aggiustamenti O addrizzamenti Di tiro Ecco Più di questo Insomma In questa sede Non è possibile Approfondire Grazie a Pierfilippo Valesci 23 Scrive Buonasera Don Leonardo Vorrei sapere Se durante la messa L'antifono al Vangelo Debbe essere letta D'alta voce Da tutta l'assemblea O solo dal lettore Ma l'antifono al Vangelo È un atto liturgico Dell'assemblea Insomma Quindi Una domanda Insomma Un pochino Interessante Se ci sono Se c'è la possibilità Insomma Perché Generalmente Insomma Durante le messe Almeno domenicali C'è Il foglietto Quindi Se è possibile L'antifono Al Vangelo Io non sono liturgista Quindi Mi perdoni Qualche liturgista Qualche sfrondone Insomma Io Ricordiamo sempre Che sono esperto In Esperto Speriamo Insomma Ho studiato La dogmatica Quindi Non la liturgia Non il diritto canonico Insomma Quindi Non vorrei mai Dire qualche sfrondone Quindi A quanto ne so Diciamo così Non c'è Nulla Che osti Insomma Per quanto riguarda L'acclamazione al Vangelo Che è un atto Come dire Liturgico Dell'assemblea Che potendo Insomma Seguire il testo Lo si recitino Tutto insieme Anche perché ci sono alcune Alcune Antifone Di Alleluia Per alcuni periodi Liturgici Insomma Che sono anche espresse Completamente in canto Insomma Quindi Non credo che ci siano Condizioni ostative Scorro Il volume è basso Bisogna alzare I dispositivi Perché questo È quello Insomma Che Che si riesce A fare Con le strumentazioni Padre Buonasera Mi può spiegare La posizione ufficiale Della Chiesa In relazione Alle teorie scientifiche Sulla creazione Dell'uomo E del mondo Marschi 1979 Non c'è Nessuna posizione Ufficiale Della Chiesa Riguardo queste cose D'accordo La Chiesa Non ha preso A quanto ne so Posizione ufficiale Ma abbiamo già detto Se non In un intervento Di Pio XII Adesso non mi ricordo L'anno Comunque Lo si trova facilmente Su internet Basta trovare La condanna Del poligenismo Cioè Pio XII Ha detto Comunque Le cose si intendano Fa parte Della dottrina Cattolica Il ritenere Che La razza umana Viene da Un unico Capostipite Quindi non è Una pluriformità Di ceppi Da cui gli uomini Sono venuti Questo lo si deve Considerare appartenente Al dato rivelato Perché su questo Si fonda E si poggia La dottrina Del peccato originale Che è uno dei capisaldi Fondamentali Del cristianesimo E se non fosse Uno solo Il capostipite Tutto quello Che si insegna Sul peccato originale Cesserebbe di essere E' evidente Che la chiesa Non può accettare Questo dal punto Di vista teorico Un'idea Di un'evoluzione Delle creature Senza che questo Comporti un atto Creativo Di Dio Ecco Però A livello di Posizioni Ufficiali A quanto ne so Non c'è stata Come dire Nessuna Oggi la chiesa Come dire Tende Più che a condannare Le singole dottrine A dire Attenzione Questi sono i principi Assolutamente Inalienabili Del dato Rivelato Poi Il resto Se vuoi discuterlo Nell'ambito delle tue Competenze proprie Fai pure Ma su questo Non si può discutere Sul fatto che Nell'essere umano Ci sia un atto Creativo Di Dio D'accordo E che La razza umana Derivi da un unico Capostipite E che c'è Un peccato ben preciso Anche se la chiesa Non ha determinato quale Commesso all'inizio Della creazione Che ha rovinato La razza umana Su questo Non si transige D'accordo Su questo Non si transige Nel senso che Transigere su questi argomenti Significa uscire fuori Della comunione Con la chiesa cattolica E con ciò che La dottrina cattolica Insegna Sul resto Diciamo così Non c'è Non ci sono questioni Pregiudiziali In linea di Principio Molte volte La chiesa lascia Che gli uomini Questo anche In teologia Insomma Non soltanto Nelle scienze umane Discutano Parlino Prima di Dimaturare Eventualmente Perché non ha detto Che la chiesa Deva poi dare un giudizio Su tutto Un giudizio Orientativo Sulle singole posizioni La chiesa E non si può Pensare di vivere un momento Di preghiera profonda Con l'orologio Alle mani Quindi con tre minuti Di tempo Ecco Fatto questo Si invoca al Signore Ed entrare in preghiera E' una cosa E' una cosa che poi Non sempre dipende Da noi E' una cosa che in parte Si impara In parte dipende Dalle grazie Che il Signore ci fa Indubbiamente però Bisogna creare Le condizioni Di tempo E di luogo Fermare completamente I pensieri Non è possibile Ecco Cercare di concentrare L'attenzione Su qualcosa Si Ecco generalmente La preghiera Comincia sempre Un po' come comincia La meditazione Quindi dal mettersi In ascolto Di Dio Se non ti parla Nel cuore Questo si fa Generalmente Trovando qualche testo Ovviamente Di natura spirituale Che si adatta Come dire Un pochino Innescare Ecco La La miccia Della preghiera Ad accenderla A metterla in moto Dopodiché Quando la preghiera parte Bisogna lasciare Che il cuore Faccia il suo corso Insomma E queste sono cose Che si imparano Facendole Che l'esperienza Insomma Ci insegna a vivere Katia Rita Maria Zara Buonasera padre Visto che inizia il mese di maggio Può dirci qualche cosa Sul libro d'oro Vorrei iniziare a leggere Io non so cosa sia Questo libro d'oro Quindi chiedo perdono A Katia Maria Zara Ma io sinceramente Questo libro d'oro Non so cosa sia Quindi Andiamo avanti Nicole 1578 Buonasera Don Leonardo Come mai Gesù Leggendo tutti e quattro I Vangeli Quando faceva Voglio reggendo Esorcismi A volte Gesù stesso Voleva che si sapesse E altre volte Gesù vietava Di parlare Numero uno Perché Gesù sa quello che fa Perché alcune volte È opportuno tacere E altre volte È opportuno parlare E Dipendeva chiaramente Dalle circostanze Di luogo Di tempo Di persona Beneficata Eccetera Ecco Bisogna poi tenere presente Che nel Vangelo di Marco Questo elemento Del fatto che Gesù Non vuole far sapere Più accentuato Perché nel Vangelo di Marco C'è il tema teologico Fondamentale Del segreto messianico Nel senso che Gesù Non vuole Ecco Che Si dica in giro Che lui è il Messia E quindi non vuole Che si conosca Nei fatti strepitosi Perché Non vuole Che sia equivocata La sua figura Quindi non vuole Essere scambiato Per il Messia politico Per il nuovo Davide Come di fatto Era l'opinione comune Dominante Ai tempi appunto Di Gesù Circa il presunto Messia Non lo riconobbero Come tale Le autorità religiose Del tempo Che Giuda A quanto pare Per questo Lo tradì Proprio perché lui Non si era messo Nella linea politica Del messianismo Inteso Come un re Potente Un nuovo Davide Che liberasse Israele Dai Romani E restaurasse La gloria E i fasti Delle taure Delle linee di Israele Come ai tempi Di Davide E di Salomone Scorro Uscì a Franco 71-85 Vi chiedo sempre Come mai Gesù Si manifesta ai bambini E alle persone mistiche Ignoranti Con poca scuola Ma questo lo ha detto Nel Vangelo Lasciate che i bambini Vengano a me Perché Chi è come loro Appartiene al Regno dei Cieli Perché le persone Semplici Povere E spesso ignoranti Sono poco superbe Quindi sono più Disposti ad accogliere I doni di Dio Che non chissia Avviano di sé Anche San Paolo Scrive Nella lettera dei Corinzi Che Io sceglio ciò che nel mondo È debole Per confondere i forti Ciò che è stolto Per confondere i sapienti E ciò che è nulla Per ridurre al nulla Le cose che sono E poi spiega Perché nessun uomo Possa vantarsi davanti a Dio Perché davanti a Dio Superbi e vana gloria Sono due cose che ostacolano Completamente la sua azione E i suoi Disegni Nonché La possibilità di Ricevere i suoi doni Massimo Come già per il cammino Neocategumenale La questione di Međugorje È stata avvocata Dalla Santa Sede C'è stata già una Prima relazione Di una commissione D'inchiesta A cui ha lavorato Anche il cardinal Camillo Ruini L'ultimo atto Che è stato fatto Dal Papa È inviare Un vescovo Che adesso risiede A Međugorje Mi perdonerete Che non mi ricordo Il nome Perché è un vescovo Orientale È un nome un po' Strano Non me lo ricordo È già lì È già lì sul luogo Certamente Sta lì Autorevolmente Anche per Certamente Discernere Contattare Governare Portare Eventuali indicazioni Di Roma Portare a Roma Eventuali indicazioni Da dare Per quello Che concerne Ciò che accade A Međugorje Quindi questa È la situazione Io personalmente Credo che Non escluderei Che come Giugorje La Santa Sede Possa fare Qualche cosa Di simile Magari non subito Ma in futuro A ciò che è accaduto Con Pompei E con Loreto Quindi creare Creare una sorta Una sorta di Mini di oce Sì Ecco Dalle dipendenze Dirette Insomma Della Santa Sede Con un vescovo Preposto Alla sua cura Ecco L'invio di un vescovo Potrebbe essere Come dire Una sorta Di primo atto Però questo Insomma Ci penseranno Poi le autorità Della Santa Sede Io personalmente Per quello che riguarda I frutti di conversione E anche il contenuto E il tenore Dei messaggi Sono incline A ritenere Ma questo Chiaramente è opinabile Ed è cosa Per ora Di fede umana Che a me giugorje Sia la Madonna Ad apparire E a parlare Ci sono Alcuni messaggi In cui Io dico Se questa non fosse La Madonna Comunque sia La Madonna Certamente Direbbe una cosa Simile Ed analoga A questa Il contenuto Dei messaggi Fondamentalmente È molto Molto materno E anche quando La Madonna Insomma Esorta Avverte A pregare A essere Asolerti Attivi In considerazione Della serietà Dei tempi Che stiamo vivendo Non mi sembra Mai che Crei Climi Insomma Di eccessiva Agitazione Allarmismi Sospetti O robe Del genere Il che Mi sembra Uno stile Molto molto Mariano Insomma Perché anche Se ci sono Situazioni Problematiche C'è modo E modo Di affrontarli Quindi c'è Un modo cristiano Mariano E c'è Un modo mondano Oggi La festa Di Santa Caterina Da Siena Ecco Santa Caterina Da Siena Ha fatto ritornare I papi Da Avignone Come ho detto Nell'Umeria Della Messa Di oggi Ma con uno stile Con delle modalità Certamente Esemplari Per tutti Coloro Che vogliono Vivere Anche oggi Di operare Nella chiesa Sapendo Che la chiesa In cui ho vissuto Santa Caterina Insomma Non era Come dire Con pochi problemi Ecco Perché nel corso Della storia Vi studiò Un pochino Di storia Della chiesa Periodi In cui la chiesa Ci ha avuto Pochi problemi Non ce ne sono Stati molti Elisabetta Esposito Don Leonardo Le vorrei chiedere Come poter capire La propria vocazione Dove ci chiama Il buon Dio Allora Questo Non Non ci sono ricette Però diciamo Che bisogna Sempre Considerare Ponderare Alcune cose Primo Dio ci parla Nel profondo Nel segreto Del cuore Se noi Vogliamo ascoltarne La voce Quindi la prima cosa Per sapere Cosa vuole Dio da me A livello Di orizzonte Vocazionale Chiederlo al Signore Con fede E poi però Ascoltare Perché Dio ci parla Delicatamente All'interno Del nostro cuore All'interno Della nostra Coscienza Ma la sua voce È facilmente Soffocabile Perché È una voce Delicata Dolce E tenue E il Signore Ci lascia liberi Il segno Che ci stiamo Orientando Verso la volontà Di Dio È questo Quando Dio Questo lo Vediamo Nella saga Scrittura Quando Dio Chiama La prima reazione Immediata È una certa inquietudine Ma non Un'inquietudine Negativa Come quella che viene Dal diavolo È un'inquietudine Derivante Dal senso Che ti sta chiamando Nostro Signore E che tu Quando ti chiedi Di fare Qualche cosa La prima reazione È sentirsi Inadeguato Questo Capita In tutte I racconti Di vocazione Biblica In quella Di Mosè In quella Di Geremia In quella Di Maria Santissima Anche Ce ne sono Tantissimi Ce ne sono Però Subito dopo Appena uno Entra Nell'orizzonte Della Dima Volontà Senta una pace Grandissima Nel cuore Quindi È una gioia Grandissima Nel cuore Ci sono poi Un'attenzione Da fare Gesù parla Nel Vangelo Dice come mai Non sapete riconoscere I segni dei tempi Noi dobbiamo Riconoscere anche I segni Della nostra storia Io a suo tempo Lo feci quando Dovetti discernere Gli orizzonti Della mia vocazione I segni Che il Signore Ci manda Nella nostra vita E qui bisogna Fare discernimento Poi bisogna Anche guardare I doni E le attrezzature Che il Signore Piano piano Ci ha donato Quindi verso dove Ci portano Perché è chiaro Che se il Signore Ci dà una missione Ci dà anche Ordinariamente Dei doni E degli attrezzature Necessarie Per adempiere La missione Che dobbiamo compiere E quindi Anche un pochino Le inclinazioni No Questo anche Questo vale Sia per il discernimento Un matrimonio Un vocazione Ma anche Vita matrimoniale Con chi Qual è la persona Adatta a me Quindi ci sono Tanti discernimenti Da compiere L'importante È compiere I discernimenti E compierli Con cuore sincero Perché il Signore Figuriamoci Se non rivela Una cosa Di questo genere Lui ci ha creati Per compiere Una missione Che dovrebbe essere Conforma a quella Che lui vuole Però Diceva Buonanima Di mia madre Che c'è un sacco Di gente Che cerca lavoro E preghi Dio di non trovarlo D'accordo Perché poi Se Dio Delicatamente Fa sentire Qualche cosa Che non appare Gradita La persona Soffoca La voce Della coscienza Si incarta E comincia A fare Quello che vuole E il nostro Signore Ti lascia Chiaramente Fare Quello che La tua libertà Che lui mai viola Ti porta a fare Allora Buonasera Don Leonardo Maria Tonietta A Battista Cosa ne pensa Della preghiera Di liberazione La preghiera Di liberazione È un'ottima Preghiera Quindi Sappiamo Che le preghiere Di liberazione Possono essere Per se stesse Recitate Da chiunque Si possono Recitare Anche per gli altri Quando la preghiera Di liberazione Però dovesse Comportare In posizione Delle mani O cose Di questo genere È preferibile Che a recitarla Per un'altra persona Sia un sacerdote Nel senso Che questi gesti Un po' più Forti È meglio Che li compia Un sacerdote Serena Mannino Due Padre Se un genitore Di uno dei due sposi Fa sposare Una coppia Di non credenti Il matrimonio È valido Non capisco molto bene Questa Questa domanda Il matrimonio Deve essere Un atto libero E volontario Perché se manca La libertà Degli sposi Il matrimonio è nullo Il matrimonio è nullo Quindi due non credenti Bisogna vedere che tipo di matrimonio contraggono Perché se sono non credenti che non vogliono sposarsi in chiesa Si sposeranno nel comune Adesso non saprei cos'altro aggiungere Riguardo questa domanda Che forse è meglio Specificare un pochino meglio Se è possibile Lorena Caro Don Leonardo Mi sono convertita da poco Dopo una brutta malattia Mi capita spesso di piangere Quando penso al Signore O quando prego È vero che il pianto è un dono di Dio Il pianto è In certe circostanze Un dono di Dio Quindi Quando si piange sui peccati propri Su quelli altrui Santa Caterina da Siena Aveva il dono delle lacrime A proposito della Santa di oggi Cioè il dono di Adolorarsi E piangere Sulle sofferenze Che Gesù stesso Prova per i peccati Degli uomini E di piangere Anche per le offese Che il Signore riceve Certo L'essere piagnoni Quindi o il piagnisteo Non è certamente Un dono di Dio Il piangersi addosso Non è certamente Un dono di Dio Quindi Gesù ha anche detto Nel Vangelo Beati coloro che sono nel pianto Perché saranno consolati E fa riferimento Appunto alle lacrime sante Quindi ci sono lacrime sante E ci sono lacrime non sante Quelle sante certamente Possono essere Definite un dono di Dio Quelle non sante Frutto della nostra Povera natura E volontà umana Sonia Nicoletti 1971 Buonasera Don Leonardo Volevo sapere Se una persona sposata In comune E poi divorziata Può risposarsi in chiesa Non si tratta di risposarsi Una persona sposata In comune Per la chiesa Non è Non ha nessun tipo Di 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 vincolo Neanche davanti a Dio Perché Per un battezzato L'unica forma matrimoniale Valida E quindi Vincolante davanti a Dio È quella del sacramento Certamente poi Adesso qui Non si possono fare Su queste cose Semplicemente Valutazioni Sul piano teorico Sul piano teorico Non c'è nessunissimo problema La persona sposata Al comune Non è sposata Davanti a Dio Quindi se divorzia E volesse sposarsi In chiesa Può farlo Certo bisogna fare Le persone interessate Anzitutto Eventualmente Anche con l'accompagnamento Di chi le prepara Al matrimonio Cose di questo genere Bisogna un attimo Cioè Capite Non si può giocare Insomma Perché anche un matrimonio Al comune Per carità Davanti a Dio Non ha un valore No Però non è che io posso giocare Con la vita del prossimo Quindi mi sposo al comune Faccio tre figli E poi divorcio E chi se ne importa E due mesi dopo Mi sposo in chiesa Con qualcun altro Tanto che posso sposare Perché non c'è nessun problema Cioè Un atteggiamento Di vita di questo genere È abbastanza Come dire Responsabile Quindi È chiaro che In teoria va bene Però in pratica Le persone vanno Se si fanno aiutare Un attimo Un pochino aiutate A maturare A comprendere alcune cose Il matrimonio Al comune Agli occhi di Dio Non ha nessun valore Però con la vita Delle persone Sia di chi c'è stato vicino Sia dei figli Non si può giocare Insomma E poi pretende Che il Signore Vada a benedire Un'altra vita Con la scusa Tra l'altro vera Che da un punto di vista Formale Di legalità ecclesiale Diciamo così Non ci sarebbe Nessun problema Elisabetta Esposito Mi chiede Che per piacere Vorrebbe sapere Dove poter trovare Le bellissime canzoni Che mette prima Di iniziare La meditazione Sulla divina volontà Quelle non si trovano Perché sono canzoni Di un gruppo Di laici Che fanno queste Belle canzoni Sulla divina volontà E che le mettono Non sono neanche in commercio Insomma Non si trovano online Fanno dei cd Che distribuiscono In alcuni Lo trovato in un ritiro Sulla divina volontà Mi è arrivata La voce Che Come dire Gli autori Di queste canzoni Sono molto contenti Che io Diciamo così Le adoperi Come spazio Meditativo Diciamo Preparatorio Per le meditazioni Sulla divina volontà Non sono però Stato autorizzato A metterle in giro Online E per cui Non me la sento Di metterle in giro Online Perché sarebbe Come dire Un atto ingiusto Non mi posso Appropriare Di una cosa Che non è mia E metterla in giro Quindi So che Questo uso È approvato Il resto Non lo è Io non mi ricordo Sinceramente Neanche come si chiama Questo Mi vergogno Un po' Questo gruppo Che ha scritto Queste canzoni Che sono comunque Molto bello Lucia Franco 71-85 Qual è la funzione Dell'incenso In senso Generale Insomma Una domanda Un pochino ampia L'incenso Nella liturgia Generalmente L'incenso Come dire Simboleggia Un po' La preghiera Un po' La presenza Di Dio E quindi Vengono incensate L'altare L'ambone Insomma appunto Come luoghi Della presenza Di Cristo Però Viene anche Incensata La salma Di una persona Che è morta Appunto Perché quel corpo È stato Tempio Dello Spirito Santo L'incenso Può anche Essere usato Come sacramentale Quando è esorcizzato E ha detto Gli esorcisti È una delle cose Più efficaci Per tenere Le case Come dire Pulite E allontanare L'eventuale presenza Di spiriti cattivi Angel Clare 17 Per favore Potrebbe consegnarsi Il giusto modo Per invitare I nostri fratelli A consegrarsi A cuore Immacolato Di Maria Questa è una domanda Un po' difficile Perché la Madonna Lo ha fatto Con tutta la gentilezza E la bontà Possibile Immaginabile Insomma Non soltanto A Fatima Ma Attraverso Molti altri Interventi I liberi arbitri Delle persone Sono sempre I liberi arbitri Delle persone Non sono valicabili Quindi Quando è opportuno Quando si vede Un cuore aperto Si può suggerire Si può raccomandare Ecco Non Io non saprei Insomma Se esistono ricette O cose di questo genere Né si può Imporre Una cosa di questo genere Oppure Come dire Violentare un po' Una Una coscienza Si può proporre Quando Opportune circostanze Fanno comprendere Che ci potrebbe essere Un cuore disposto Insomma No Perché Va bene Farsi Mediatori Ambasciatori Anche Dei voleri Della Madonna Questo certamente La Madonna Lo vuole Però sempre a tempo Luogo Forma Momento Opportuno E tenendo conto Ecco Delle disposizioni Di chi ci sta davanti Se qualcuno Non vi interessa Non vuole starci a sentire Non possiamo In ogni caso Violentarlo Deborah Cosa Tanta tuta Qui a Pentecoste Il digiuno È meglio tralasciarle E fare altre offerte Che di volte in volte Si è su Piedosanto Oppure è sempre gradito Durante l'ottava di Pasqua Certamente Non è opportuno Fare il digiuno Durante il tempo Di Pasqua Questa è una cosa Su cui Ogni anima Deve fare discernimento Non è proibito Fare il digiuno Si possono fare Anche altre cose Adesso viene anche Il mese di maggio Insomma Con i fioretti Del mese di maggio Questo argomento Da Da trattare Fondamentalmente Colpato e spirito Non ci sono Diciamo così Condizioni ostative Insomma Anche se il tempo Di Pasqua È certamente Un tempo di gioia Sono decisioni Da prendere Valutando Insomma Una serie Complessa Di cose Anche personali Per cui Oltre che Fare un discernimento Davanti al Signore Durante la La propria preghiera È opportuno Eventualmente Chiedere prudente consiglio A Il proprio confessore Insomma Chi c'era Al padre spirituale Valutando Anche ripeto Le condizioni concrete In cui La persona Si trova Il governato L'88 Padre la liturgia Delle ore Valla bializzata Non necessariamente A quanto io ne so Almeno ora Nei tempi antichi Per la Come dire Per la Per l'attempimento Canonico Dell'obbligo Del breviarium Quando ancora c'era Il breviario A quanto ne so Non vorrei sbagliarmi Si richiedeva La bializzazione Per quel che Concerne il nuovo Sempre a quanto ne so Vedere Pregare Tante volte Il breviario Anche da tanti I miei confratelli Ho visto che Non veniva L'abbializzato Insomma Ecco quindi Credo che Nella disciplina Attuale Non sussista Più Questo obbligo Gisa 27 Cose di video Comunità Spiritore Luce della scrittura Giacomo 2 9 Ma se fate Destinzione di persone Commettete un peccato Allora Giacomo 2 9 Se riesco Lo vado a vedere Al volo C'ho la Bibbia Qui davanti Ma non credo Che Giacomo 2 9 Abbia molto attinenza Alla Comunione Spirituale Qui La distinzione Di persone Di cui parla Giacomo 2 9 Infatti Mi ricordavo bene Insomma Riguarda Eventuale Disicione Confronti Di poveri E di meno Abbienti Cose che Evidentemente Sono un abominio Che i cristiani Non devono fare La comunione Spirituale Invece È come dice Il termine stesso Un unirsi A Gesù Con un atto Dell'anima Quindi Esprimendo Con i propri Affetti E desideri La volontà Di unirsi A Gesù Non potendo Farlo Sacramentalmente O perché C'è qualche Situazione Di peccato Che è Ostativa A ricevere L'assoluzione Oppure perché Si potrebbe Esersi confessare Ed essersi assolti Ma non si è fatti in tempo A farlo E quindi Dal momento che Spero che tutti I buoni cattolici Siano ancora Ben informati Che se si è coscienti Di un peccato grave Non bisogna Accostarsi alla comunione Ma in quel caso Si può fare La comunione spirituale E può confessarsi Accostarsi alla comunione Sacramentale Dopo aver ricevuto La doverosa Assoluzione Campiorni Buonasera Cosa ne pensi Dell'apparizione Di Anguera Mi riferisco Tutto I messaggi Degli ultimi anni Credo che Ne abbiamo già parlato Nella puntata Precedente Di questo argomento E quindi Ripeto Che il giudizio Sulle apparizioni Madiane Aspetta sempre Alla Chiesa Le apparizioni Di Anguera Stanno assumendo Negli ultimi tempi Dei toni un po' troppo A mio avviso Drammatico Apocalittici Con un linguaggio Che si presta anche A Come dire A creare possibili Fraintendimenti O a suscitare Un pochino Di turbamento Per cui Io chiedo perdono Alla Madonna In via preventiva Se dovesse essere Lei Davvero A manifestarsi E a parlare Ecco Però esprimo Come amante Di Maria Mi si passa In questo tema È una persona Che ama La Madonna E che Ne conosce un pochino Lo stile Materno Anche quando Deve dire cose Molto serie Che io faccio Un pochino Di difficoltà Ecco A percepire Come sue parole Alcune Espressioni legate Più recenti Messaggi di Anguera Che per la verità Non sto più Non sto più Seguendo Insomma Da 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 un po' Di tempo Insomma Proprio quando ho visto Che negli ultimi Ripeto Tempi Questa cosa Andava un pochino Più accentuandosi Insomma E quindi Dobbiamo sempre tenere presente Come ho detto In altre circostanze Che noi non possiamo E non dobbiamo Affondare Affondare La nostra fede Su nessuna rivelazione La nostra fede Si fonda Sulla fede divina E cattolica Quindi su ciò Che sta nel catechismo Della chiesa cattolica E che la chiesa Ci insegna Autorevolmente Le rivelazioni private Le apparizioni Sono dei di più Che possono essere utili Affermare l'attenzione Su qualche aspetto Ad approfondirne Qualche altro Ma non devono mai diventare Più grandi Di quello che sono Né tantomeno Un sostituto Ecco Della fede divina E cattolica Per cui Mi raccomando Tutti quanti Coloro Insomma Che Che si fidano Del mio parere Se non si fidano Sono stati Direi di farlo Insomma Io consiglio sempre Prima approfondisci bene La fede divina E cattolica Che la devi possedere Bene Poi Se vuoi Se ti interessa Qualche altra cosa Però oggi Spesso Si va Troppo frettolosamente Ad attingere A svariate fonti Con poco discernimento Con il rischio Di essere portati A un pochino Fuori Del seminato Ecco Il gatto Ioio Buonasera Padre Ad alcuni sacerdoti Ho sentito dire Che la Madonna Voleva fare figli Con San Giuseppe Ma poi È venuto L'Arcangelo Gabriele Obbedito a Dio È un'affermazione Corretta Ma Questa affermazione È una Personale Idea Di questi sacerdoti Contraria Ad una Tradizione Della Chiesa Che vuole Che la Madonna Abbia fatto Già nel Tempio Quando fu presentata Il 21 novembre C'è una festa Riturgica Vuoto di verginità A Dio Per cui la Madonna Non c'era nessuna intenzione Di fare figli Con nessuno E il motivo Per cui chiese All'Angelo Chiarimenti Sulla modalità In cui sarebbe diventata Madre di Dio Era proprio questa Cioè capire Se Avesse dovuto Cambiare idea Quindi Entrare nell'ottica Di dover fare un figlio Alla modalità umana Oppure se c'era Qualc'altro modo Con cui il Signore Pensava Di darle Questa maternità Ed infatti La risposta esatta È stata La seconda Maria Marea Ottanta Buonasera Donardo Riguardo Riposo nello spirito Cosa ne pensa? Io di questo argomento Non sono assolutamente Non sono assolutamente Ferrato Per cui Potrei dire Sciocchezze Insomma So che è un fenomeno Che accade Nelle comunità Chiamiamole carismatiche Il rinnovamento Nello spirito Ne conosco molto poche Anche di noi Comunità Già su risorto Eccetera Però Bisogna chiedere Queste cose A persone Che sono un pochino Esperte Di questo mondo Io Di questo mondo Ho una conoscenza Veramente molto Molto limitata Per cui Direi sciocchezze Insomma Non mi sono neanche Fatto un'idea mia Personale Non so neanche Se è una cosa buona O una cosa Non buona Insomma Quindi non I giuristi Dicono Mi avvalgo della facoltà Di non rispondere Perché Dicevo Il buon Wittgenstein Su ciò Di cui non si sa O non si può parlare È meglio tacere Per cui Preferisco Insomma Non portare Sulla cattiva Sulla cattiva strada Insomma Nessuno Rosy Bicchi Leggere o ascoltare Il libro di cielo È la stessa cosa Dipende Dalle singole sensibilità Delle anime Io per esempio Quando ascolto Non mi resta quasi niente Cioè per me È più importante Ed è più facile Ed è più fruttuoso leggere Se una persona Invece Ascoltando Gli restano Dentro più cose Ne trae maggior profitto spirituale Ascolta Sulle cose Che riguardano lo spirito Non ci sono leggi oggettive Ma ci si regola sempre In base a ciò Che concorre Al maggior bene Dell'anime Maria Costanzeliana Buonasera Esiste qualche formula Per battezzare Gli embrioni Crio conservati Mi riavvalgo Della facoltà Di non rispondere Insomma Non sono assolutamente Ferrato su questa materia Quanto ne so Non ci sono Indicazioni Insomma Da parte Della chiesa Su questo Certamente Delicato ambito Pastorale Nicol 72 Buonasera Padre La comunione Può essere data Anche dal diacono Solo dal parroco Il diacono Nell'attuale disciplina Della chiesa È ministro Ordinario Dell'eucaristia Non straordinario Per cui l'eucaristia Può distribuirla Sempre subordinatamente Al sacerdote Perché è di grado Gerarchico Inferiore Ma senza Dover ricevere Nessun permesso Appunto perché È ministro Ordinario Dell'eucaristia Quindi può esporre Il Santissimo Sacramento Può distribuire L'eucaristia Nella liturgia O fuori della liturgia Può anche andare A prendere La piscite Nel tabernacolo Riporla Può purificare I vasi sacri Dopo la comunione Questi sono I compiti Diciamo così Liturgici Del diacono Ripeto Sempre subordinatamente Dicono i documenti Della chiesa Ai sacerdoti Facciamo un esempio Se ci fosse In una messa Un sacerdote Due diaconi E durante la comunione Il sacerdote si siede Manda solo i diaconi Non sarebbe una cosa Conforme A quello che è La legge Della chiesa Però Se c'è un afflusso Discreto Insomma Di gente Per cui Vanno a dare La comunione In tre Non c'è assolutamente Nessun problema Perché Lo possono fare Senza alcun Mandato Ad hoc Né del parroco Né del vescovo Appunto perché Sono ministri ordinari Marschi 1969 Padre potrebbe Spiegarmi il destino Dei morti Prima dell'avvento Di Cristo E della liberazione Di Dio Al popolo ebraico I morti Prima dell'avvento Di Cristo Stavano tutti quanti Nell'imbo dei santi Padri Quindi nessuno Era andato In paradiso Perché Non erano aperte Le porte del paradiso Perché non era stato Pagato il debito Del peccato originale Il sabato santo Nostro signore Con la discesa Agli inferi Ha liberato Dal limbo Quindi dal regno Dei morti Le anime Dei giusti Che attendevano La redenzione La rivelazione Di Dio al popolo ebraico È stata La rivelazione Dell'antica alleanza Quindi Dio ha cominciato La rivelazione Con il popolo Di Israele E l'ha portata A pienezza Con Gesù Cristo Che poi Ha inaugurato Il popolo Della nuova alleanza Che è in continuità E discontinuità Con quello Dell'antica E che è La chiesa Universale Giusy Cassarino Volevo porle Un'altra domanda Dopo 14 anni Il nostro crescino parroco Ha lasciato La parrocchia Il continuo di studi A Roma Ieri ha liato Un nuovo parroco E ho notato Che alcuni fedeli Sarà più sotto Hanno preferito Andare in un'altra parrocchia Cosa pensa Di questo comportamento Io Non sono Abilitato A Giudicare Perché bisogna Poi sapere Conoscere sempre Le Le circostanze Certamente Non è bene Vincolare La propria presenza In parrocchia La simpatia All'antipatia Di un sacerdote Questo è un comportamento Molto infantile Poco maturo Da un punto di vista Ecclesiale Io posso avere Il confessore Il padre spirituale Che si trova In un'altra parrocchia Quindi può succedere Che Ogni tanto Vado a sentire Una messa In un'altra parrocchia Ma L'indicazione Diciamo così Opportuna È che Si frequenti La propria parrocchia Certo Ci sono dei casi In cui oggi I pastoralisti Stessi Dicono che Non sempre La propria parrocchia È quella Come dire Corrispondente Alla circoscrizione Territoriale Qualcuno parla Della parrocchia Di elezione Di elezione Fenomeno legato Più che altro All'esistenza Adesso Dei movimenti Ecclesiali Per cui Se non la parrocchia X C'è il movimento Ecclesiale Per esempio C'è il rinnovamento Dello spirito Io Frequendo il rinnovamento Dello spirito Non c'era la mia parrocchia Allora potrebbe essere opportuno Adottare Diciamo così La parrocchia Che frequento Perché vada Il rinnovamento Dello spirito Come se fosse La mia parrocchia Così vale per gli altri Movimenti O cose di questo genere O se uno Come dire Lavora In un territorio Che è diverso Da quello Della propria residenza Insomma eccetera No Quindi Non bisogna essere Troppo fiscali Anche se comunque C'è la legge Della chiesa Che va rispettata E in alcuni casi È assolutamente Stretta L'osservanza Certamente Non è nuovo Perché deve Rimare come dire Eccessivamente O disordinatamente Attaccato Ecco Irene Pellegrini Buonasera Donato Avrebbe un libro Su o di qualche santo Da consigliarmi Ho già detto Il diario di Santa Postina Qualunque tipo Di libro Di oscrito di santo Canonizzato Dalla chiesa cattolica I consigli personali E particolari Vanno chiesti E ottenuti In sede Di direzione spirituale Perché non si possono Dare in linea teorica Perché non tutto Va bene per tutti Ecco E quindi bisogna Conoscere la persona Chi è Chi non è Che stato di vita Ha Che grado Di virtù Ha Che tipi di inclinazioni Ha Che cosa cerca Dalla lettura E tante altre cose No Oser Il vescovo Oser Qui non capisco Molto bene Che significa Blasierianna Padre non si è sottato Può interrompere la confessione Se deve celebrare la messa Per continuare Dopo la messa Con la stessa persona Ma questo Non saprei Insomma Il discorso è questo qui Posso parlare Da parroco Non è molto consigliabile Ecco Come dire Accostarsi alla confessione Tre minuti Prima che comincia La santa messa Cioè Io Generalmente Posso dire Quello faccio Dieci minuti Un quarto d'ora prima Se so che sono solo Quindi che devo celebrare Esco proprio Dal confessionale E Non Non è opportuno Ecco Come dire Fare la confessione Con l'orologio in mano Insomma No Perché Non sa che cosa Si Si trova davanti Non si può fare una confessione Lunga Lunga due ore Però non si può neanche Fare una confessione Di questo genere Questa È una cosa Un pochino anomala Per cui Io non mi sento Di giudicare Perché bisogna vedere Le circostanze Di Che hanno portato Il sacerdote A prendere Questo tipo di scelta Quindi questo Per valutare Una cosa di questo genere Non si può prescindere Da chi era il penitente Cosa stava dicendo E altre cose Per cui Non Non è possibile Formulare un giudizio È consigliabile Ai fedeli Che si accostino Alla confessione In momenti Tranquilli Ecco Non A ridosso Della celebrazione Della Santa Messa Deborah Go 72 Entrando nel divinvolere Possiamo farci Presenti Nell'attimo In cui ogni anima È stata concepita E donargli Il santo battesimo Nella divina volontà L'intento è quello Di dare il battesimo Ai bimbi Allora Queste cose qui Noi non possiamo A mio avviso Non si può Andare oltre Come dire Il seminato Il battesimo Il battesimo Deve essere amministrato Ai bambini Perché il battesimo È un sacramento Punto Quindi non ci sono Atti Ordinariamente Che possano Supprire A questa assenza Quindi Diverso è il caso Di un bambino Abortito Perché un bambino Abortito Non può Aver ricevuto Il sacramento Del battesimo In questo caso Supposta L'esistenza Del limbo Che è una dottrina Comune Non è un dogma Di fede Io personalmente Sono Aderente Alla dottrina Comune Quindi io credo Che esista Il limbo Dal momento Che la macchia Del peccato originale Priva solo Della visione Beatifica E non ci sono Peccati attuali Quello che è opportuno A mio avviso Fare in questi casi Non c'è niente Di mare Nel Farlo Quindi Assolutamente Non c'è nessuna Contraindicazione E far celebrare Una messa Da parte dei genitori Per questo bambino Non nato Con l'intenzione Semplicemente Che gli arrivino Gli effetti Del sacramento Del battesimo Che non ha potuto ricevere Non perché i genitori Non ce l'avrebbero portato Ma perché non c'è stato morto Ecco Io personalmente Ritengo Questa è una mia opinione Personale Non parlo a nome Della Chiesa Che è una cosa Di tal fatta Sia più che sufficiente Per stare certi Moralmente Che la creatura Stia in paradiso Tanto se il limbo Non dovesse esistere Cosa che ritengo Alquanto improbabile Comunque Non possiamo escluderlo Fino a quando la chiesa Non dirà altro Il massimo che succede È che si è celebrato Una messa inutile Ma una messa inutile Non mi ha fatto male a nessuno Insomma credo No? Gio Pierpaoli Perché padre Si fa tanta fatica A trovare i sacerdoti Con una confessione generale Alcuni dicono Basta confessarsi spesso A me pare di aver capito Che non sia proprio La stessa cosa Ma Fatica Insomma Un sacerdote Dovrebbe essere molto felice Io ho conosciuto Tanti sacerdoti Che Raccontano Che Sono stati Molto felici Di poter ascoltare Confessioni generali Perché la confessione generale È un momento Di grande Grazia Se ben fatta Ben preparata E ben vissuta Dal penidente Certamente Bisogna Ancora più di quello Che dicevo prima Trovare dei momenti Adeguati Quindi Chiedere al sacerdote Che dedichi Uno spazio Di tempo Non mezza giornata Chiaramente Perché Anche la confessione generale Va preparata Insomma Per cui Possibilmente Bisognerebbe cercare Di rimanere circoscritti Nell'ambito di un'ora Perché la confessione generale Non è il racconto Di tutta la vita È il racconto Dei peccati Gravi Commessi Durante la vita Insomma Per cui Si riesce Se uno si Si prepara Per quanto peccatore Possa essere stato A fare un pochino Di sintesi Anche se deve essere Una sintesi Abbastanza dettagliata E quindi Si chiede Una mezz'oretta Tre quarti di ora Del tempo del sacerdote Diciamo Al di fuori Degli orari Di confessionale Immediatamente Antecedenti Alla santa messa Che non Che non danno modo Insomma Di gestire una confessione Generale Insomma Ecco Quindi Chi cerca Trova Insomma Si faccia in modo Insomma Di 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 organizzare Di chiedere con umiltà Una cosa di questo genere Insomma Mi sembra Mi sembra difficile In ogni caso Ogni diocesi Ha un sacerdote Che si chiama Il penitenziere Basta andare in curia Dove vi chiederò Dove vi chiederò Un riscontro Anche per la puntata Di questa sera Di benedica Dio Nipotente Padre Figlio E Spirito Santo Amen Fiat Ave Maria Dio Nipotente Dio Nipotente Di Dio Nipotente Dio Nipotente Dio Nipotente